Ho ascoltato molto interesse la relazione del Ministro dell'Interno perché ha riportato alla logica dei numeri, e qui non si può scherzare, rispetto a dare l'idea che il Paese ha delle piazze che bruciano, spostando l'attenzione su quello quando invece sappiamo che il tema è l'emergenza sanitaria e tutelare la salute e la dignità delle persone, il diretto al lavoro e all'educazione dei nostri figli. Quindi è bene che abbia dato la giusta contezza dei numeri perché dobbiamo partire da lì, non dall'emotività, non dalla strumentalizzazione politica, pur sapendo che oggi siamo in una fase nuova, è cambiata, è cambiata anche rispetto a marzo-aprile quando era naturale abbracciarsi e unirsi intorno alle autorità precostituite. Oggi è più complicato, non c'è più l'incognito, oggi il virus lo conosciamo, conosciamo le sue dinamiche, almeno la maggior parte di esse ed è, seppur differente da territorio a territorio. Io vivo in Lombardia, tra Milano e Varese, le ultime notizie danno un aumento di oltre 7.500 casi, nella mia provincia di Varese quasi 2.000 nella sola giornata di oggi. Così come tra settori e settori è diverso, perché chi lavora nel pubblico e fa lo smart working evidentemente ha una sensazione diversa e una percezione diversa rispetto a lavorare nel settore privato, ad esempio quello dei ristoranti e dei bar. Quindi comprendiamo la preoccupazione ed è fisiologico che molte persone vogliano manifestare la propria preoccupazione sul futuro, le ansie e le inquietudine e noi dobbiamo farcene carico. Ma volevo dirlo in maniera molto chiara a chi è stato ministro come il senatore Centinaio, che non è solo lui che incontra le persone, li incontriamo anche noi, dipende cosa vai a dirgli alle persone. Se le vuoi rassicurare e dire che farai delle battaglie per lui, per cambiare anche alcune cose, non vai a dirgli come ha fatto il senatore Centinaio rispetto a un'ordinanza non del Ministero della Salute, ma del suo presidente di Regione, Lombardia, ha detto io alle 23 scenderò in piazza e voglio vedere se vengono ad arrestarmi. È senso istituzionale questo? Dipende come parli alle persone. Puoi avere vedute diverse rispetto al Governo, così come ha fatto ieri il sindaco di un'importante città italiana che alle 5 del mattino non ha trovato altro da fare che andare a cena con altre persone nello spregio più totale delle norme di distanziamento. Chi ha un incarico istituzionale deve dare l'esempio, poi può discutere sulle singole misure, arrabbiarsi, dividersi su quello, ma non possiamo permetterci di mettere in discussione il principio di legalità. Ci riempiamo molto spesso con la parola legalità alla bocca, poi dobbiamo essere conseguenti. Allora, è bene essere attenti ed è bene che si condanni tutti, tutti, senza sé e senza mai gli episodi di violenza, senza sponde istituzionali, perché ormai con i social, con i mezzi di comunicazione, le persone si nutrono di messaggi sbagliati. E se pensano che qui dentro c'è qualcuno che dà sponda sul versante della legalità e del non rispetto delle regole, si dà spazio a persone che invece si muovono per tutt'altro. E quindi distinguere chi giustamente è preoccupato per il futuro, che va compreso, rispetto a chi invece scende in piazza per motivi diversi. Abbiamo sentito dall'antagonismo a movimenti neofascisti, bande giovanili, persone delle curve che sono in contatto con i delinquenti in servizio permanente effettivo. Allora, io vorrei provare a fare un richiamo che riguarda tutti, a livello locale come a livello nazionale, nel momento della responsabilità collettiva. Vale per tutti. Significa che chi fa parte della classe dirigente del Paese deve cambiare modo di rapportarsi rispetto a questa crisi. A partire da noi, a partire da chi è forza di maggioranza, a partire anche dagli stessi sindacati, le forze sociali e le associazioni di categoria, bisogna essere consapevoli che oggi non si è solo portatori di un interesse di parte, ma si è componente effettiva della classe dirigente di questo Paese. E quindi va cambiato l'atteggiamento nei confronti di questa crisi. Vale per le forze di maggioranza, che giustamente devono essere coinvolte anche con modalità innovative, a partire dalla funzione di raccordo dei capigruppo che tengono il collegamento fra governo, gruppi e territorio. Si discuta dentro quel formato nuovo. Poi si decide, magari mediando, magari con discussioni accese, ma poi quando si esce non si giocano altre partite, perché non ce lo possiamo permettere la partita oggi di affrontare insieme il Covid. Quindi lasciamo stare i regolamenti di Conti e pensiamo a come affrontare insieme questa emergenza. E vale per le forze di opposizione, che chiedono giustamente un coinvolgimento non di cortesia. Però decidiamoci, perché stridono le parole di oggi da uomo di Stato, voglio dirlo, di Silvio Berlusconi, rispetto alle sceneggiate che abbiamo visto qua ieri, abbandonando l'Aula. Perché si rimane in Aula e si svolge il proprio ruolo. Questo è un punto fondamentale. Quindi, che riguarda anche il centrodestra, sì, vi dovete decidere. Che cosa fare? Se è l'opposizione repubblicana o se è quella dei toni che ho a volte ascoltato in quest'Aula. Sì, esatto. E vale, arrivo anche qui. E vale anche per il Governo, più di tutti gli altri, perché ha maggiori responsabilità. A fase straordinaria, misure straordinarie, strumenti straordinarie. Velocità e condivisione delle scelte. Perché se dobbiamo affrontare questa sfida, dobbiamo mettere in campo strumenti anche nuove. Vale per la cabina di regia, vale per il coinvolgimento dei campi gruppo. Decidiamo quali sono le modalità. E vale anche, lo dico al Ministro dell'Interno, per come ci organizziamo sul territorio. I prefetti affrontano ancora con il formato del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica o si inventano formule nuove di governance sul territorio, in cui c'è anche il dirigente dell'Aselo o dell'ATS, c'è il direttore dell'Ufficio Scolastico Provinciale, c'è a volte il direttore delle agenzie di mobilità, ci sono i sindacati. Perché dobbiamo essere all'altezza delle sfide che abbiamo, inventandoci anche strumenti nuovi. Ho davvero concluso, Presidente. Oggi questa sfida dobbiamo deciderla se la vogliamo giocare come classe dirigente del Paese. Ne va della credibilità di tutti noi. Si vince insieme. Non è che se perde il Presidente del Consiglio poi vince il resto del Paese. Oggi ognuno si prende la propria parte di responsabilità a seconda dei ruoli e degli incarichi che ha e risponderà per questo al Paese.